Allora, attenzione perché Giuseppe Sena sta per andare in diretta su Natibit, guardatelo, è di Magalito col suo maglione a pois. Vediamo che dice. Sì, sì, ti sento, ti sento. Eh, ok. Eh, sta per andare in diretta. Grazie a me, Paolo, è il suo cliente. No, ma solo la potenza. Eh, 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 pronto. Andiamo per andare in diretta, attenzione. Eh. Eh, eh, attenzione. Grande Francesco! Stato il tempo dell'Africa, mi sa che il Tarditagno è tempo di andare a darare un po' la terra. Annalisa e Stefania gli hanno capito di che cosa stessero parlando di loro voi. Sì, sì. Eh, 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 avevano un bisogno progetto. E' senza, eh, perché? Adesso siamo in diretta con un nostro amico culpare da fonsa, DJ Pipino, che vuole raccontarci quella che è la sua sera. Ciao Pipino, come stai? Ciao Pipino. Eh, ah, 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 ah. no e che no? eh ragazzi scusate ma Pippino è andato via no cercheremo tra qualche istante di prenderlo oppure avrebbe detto il Shunmai che è il bello della diretta e niente vabbè cercheremo di incontrattare visto che il tempo è questa sera ogni tanto hanno un po' i problemi e non soltanto loro non ti senti come è possibile che che finita la diretta? non sentire più nulla ma non lo sto spiegando perchè guardate qua fondo scala fondo scala? cioè bascia scala? ma ti ricamerà per favore diciamo che stavamo qui c'è quella da Moil se non lo riusciamo a tutta per vedere eccola guarda da Moil